Ciao ragazzi, bentornati su Pop Tutorial Italia, qui Massi, e oggi inizieremo un nuovo percorso del speed corio giusto un 8 per riprenderci dalle vacanze. Iniziamo! Ok, partiamo subito che abbiamo fatto un po' di pancetta quest'estate, quindi dobbiamo riprenderci. Dai, allora, 7, 8, iniziamo con 1, le braccia salgono, arrivano alle spalle e scendono, nel frattempo la gamba destra fa un piccolo passo in avanti e la sinistra fa slide dietro, 7, 8 e 1, da qui le braccia risalgono come se volessero fare la stessa cosa, ma si bloccano qui, quindi le gambe faranno 1, scivolo, blocco 2, e le braccia 1, scivolo, blocco 2, insieme facciamo 1, 2, attenzione qui, ci metto sempre un po' di busto che va in contrapposizione alle braccia, quindi facciamo 1, 2, da qua iniziamo a prendere un mezzo tempo e quindi facciamo e scendo proprio le gambe chiudono, 3, di nuovo, 7, 8, 1, 2 e 3, da qua il braccio bello forte qui, facciamo e le braccia chiudono di nuovo, a 4, ancora, piano, 1, 2 e 3 e a 4, solo la testa, da qua, che succede? il braccio destro sale, il sinistro gli va in contro e tac, lo scaccia via, nello stesso momento tac, stacco con la gamba sinistra, giro e mi fermo in posizione, figo, yeah, di nuovo, piano 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 e ricominciamo, 7, 8, 1, 2 e 3 e a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, ultima volta e riva davanti, la musica non è velocissima, è abbastanza tranquilla, il livello è un principiante intermedio, quindi adatto per tutti, 7, 8, 1, 2, e 3 e a qua, 5, 6, finiamola, molto semplicemente facciamo e chiudo, apro, chiudo, apro, con un po' di bounce, le braccia sono freestyle, come volete, quello che volete fare, quello che volete fare, ok, ripetiamo, facciamo una volta super lenta, media velocità e spin, piano, 5, 6, 7, 8, 10, media velocità, 7, 8, 1, 2 e 3 e a qua, 5, 6 e 6 e a qua, velocità giusta, c, 6, 7, 8, 1 e 2 e 3 e a qua, 5, 6 e 7 e a qua, 5 e 6 e 7 e a qua, 5 e 6 e 7 e a qua, come è andata ragazzi? Spero sia andata alla grande, che ne dite di queste speedcore? Allora, ricordatevi che per provarla con la musica trovate il link in descrizione, sia per la musica che per la seconda parte di questa coreografia, noi ci vediamo presto, un saluto, un abbraccio, Hip Hop Tutorial Italia!